Di Sebastiano Cascone lunedì 21 maggio 2018 Simona Ventura, giurata di Amici 2018, nelle scorse ore, ha postato una foto assieme ad Albano Carrisi e Romina Power ospiti dell'ultima puntata di sabato 19 maggio La conduttrice ha accompagnato l'immagine con una didascalia tirando in ballo anche Loredana Leciso, e della difficoltà dell'ex compagna, di riuscire a farsi strada in un rapporto consolidato come quello tra il leone di Cellino San Marco e la sua ancora moglie Era lontano 2005 e toccò proprio all'avventura, allora padrona di casa dell'Isola dei Famosi, rivelare ad Albano le intenzioni della Leciso di voler lasciare in diretta il compagno perché non sentitasi Rispettata come donna, fidanzata e mamma, Leciso, non rinnego il mio stato d'animo anche se, sembra comunque facile dirlo, ma col mio spirito attuale non lo rifarei, visto che prima ero più fragile, debole Pazienza, ho sempre pagato le conseguenze delle mie azioni, verissimo, ottobre 2017, Albano, giuro che quando mi ha detto, ti lascio, in diretta pensavo fosse un tranello E invece faceva sul serio Io non so come cazzo si può fare una cosa del genere, Rolling Stone, gennaio 2018, vota l'articolo, 4.00 su 5.00 basato su 1 voto, i video del canale donna Ciao